Cos'è l'acropodi? L'acropodi è il punto più alto della polis equrega. Solitamente nell'acropodi veniva costruito il tempio che era un luogo di culto diverso dai nostri luoghi di culto perché soltanto i sacerdoti potevano accedere all'interno del tempio e soltanto le sacerdotesse e alcune persone potevano accedere all'interno del del tempio che era un luogo sacro che non era riservato ai devolti. Ciao al prossimo video, vi aspetto!